Se ne parlava già da tempo, ora c'è l'annuncio ufficiale. Dopo lo scandalo Cambridge Analytica con Facebook colpevole di aver ceduto i dati di milioni di utenti alla società britannica, il fondatore Mark Zuckerberg annuncia l'arrivo di Clear History, il tool che tutela la privacy. Servirà per avere informazioni sulle app e sui siti web con cui si è interagito. Gli utenti potranno cancellare tutti questi dati dall'account e sarà anche permesso di spegnerlo. L'annuncio è arrivato da San José in California alla conferenza annuale degli sviluppatori poco più di un mese dopo che Zuckerberg si è presentato al congresso a Washington per chiarimenti su privacy e propaganda politica. Come gestirà in futuro il social network i dati sensibili riguardanti la politica? Stiamo richiedendo a tutti coloro che gestiscono annunci politici o campagne o pagine importanti di sottoporsi a verifiche presentandosi con documenti di identità. Ma più che le misure sulla privacy forse sarà la prossima app per incontri a trattenere gli iscritti sul social network. App per relazioni autentiche e durevoli non solo di una notte, ha detto Zuckerberg che ora promette l'incontro della vita.